Kei Kei, ok Kei Kei e Nappo Orso Capo, oggi Pianarella, in quella mostruosa parete. Ok, la partenza della Superbacari, primi due tiri della via il mio nome, Seiya Più, Ok, la partenza della Superbacari. Siamo sul tiro. E la mitica Kei ha fatto un traverso di 15 metri su tre protezioni e siamo a circa 250 metri su tre protezioni. Grazie a tutti. Ciao! 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 Ciao!